Ci troviamo alle isole Medas che sono una serie di scogli di fronte alla cittadina di Estartit agli inizi della costa brava. I punti di immersione sono numerosi e ci si arriva in pochi minuti dal porticciolo con la barca. Oggi l'acqua è calma e sotto, a non molti metri, già cominciamo a vedere i primi coralli molli e le gorgonie che si muovono con le correnti. Naturalmente quando arriviamo i pesci scappano, però un bellissimo corallo rosso con i polipi espansi sta facendo vedere il meglio di sé. A non molta profondità troviamo una prateria di posidonia oceanica con i pesci che girano tranquillamente cercando qualcosa da mangiare. Qui incontriamo una piccola cernia che ancora non si è accorta che stavo cercando di riprenderla ma appena mi nota se ne va. Anche se io la inseguo. Le praterie attirano molto i pesciolini, soprattutto quelli più piccoli. e in alto un branco di castagnole a qualche dentice che cerca di farne pasto. Però per noi oggi l'immersione è finita e si risale lungo la cima. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.